Meghan Markle è stata premiata all'evento Power of Women di Variety a Los Angeles, dove ha parlato del suo precedente programma televisivo, Suits, e del suo successo in streaming su Netflix.La duchessa di Sussex ha calcato il tappeto rosso all'evento Power of Women di Variety a Los Angeles. L'evento celebra le donne che hanno avuto un impatto significativo nel loro campo, e ciascuna vincitrice è apparsa su una copertina di Variety. Meghan Markle, che è stata premiata l'anno scorso, ha partecipato all'evento da sola ed ha espresso il suo orgoglio di farne parte, secondo la rivista People.Nick Bullen, cofondatore di True Royal TV e documentarista pluripremiato, ha discusso delle apparizioni pubbliche di Meghan. Ha detto, penso che Meghan Markle sia molto brava nelle sue pubbliche relazioni e nelle sue apparizioni in pubblico in occasione di eventi di alto profilo, Bullen, che produce programmi sulla famiglia reale britannica da 20 anni e ha lavorato a stretto contatto con il re per circa un decennio. Ha aggiunto, le sue apparizioni, sembrano spesso avvenire in momenti chiave del diario o del calendario della famiglia reale britannica. Ha sottolineato che l'apparizione di Meghan è avvenuta pochi giorni dopo il 75esimo compleanno del re. Eccola pochi giorni dopo il 75esimo compleanno del re, e sta camminando sul tappeto rosso a Hollywood. Penso che venga da un mondo di autopromozione, e se sei come autopromuoversi. Sa quando farà il suo debutto. Prime pagine dopo la sua ultima commedia hollywoodiana. Sul tappeto rosso, Variety ha informato Meghan Markle che il suo precedente programma televisivo, Suits, aveva collezionato 45 miliardi di minuti di streaming su Netflix e Peacock messi insieme. Markle, che interpretava Rechelzane nel dramma legale, ha espresso sorpresa per la rinnovata popolarità dello show.